Prepariamo insieme il gelato allo yogurt greco e fragole, senza zucchero, senza panna e senza sensi di colpa. Lavate le fragole, eliminate il picciolo e tagliatele a metà. Scegliete delle fragole ben mature. Trasferitele in una ciotola. Al posto delle fragole naturalmente potrete utilizzare la frutta che preferite, le ciliegie, le banane, le albicocche, le pesche, qualsiasi tipo di frutta. L'importante è che sia ben matura. Trasferite le fragole in un recipiente che poi in seguito andrà in freezer. Unite anche lo yogurt greco che andrà congelato insieme alle fragole. Quindi coprite e lasciate congelare per almeno 6 ore o per tutta la notte. Ed ecco fragole e yogurt greco congelati. A questo punto prendete il frullatore, tagliate grosolatamente lo yogurt e trasferitelo nel boccale del frullatore. Unite anche le fragole congelate e frullate il tutto. Il mio è un frullatore un po' piccolino quindi ho dovuto inserire le fragole in due volte. Unite anche il miele o il dolcificante che avrete scelto. Va bene anche la stevia. Aggiungete ancora le fragole e frullate bene il tutto fino ad ottenere un composto cremoso come questo. Ecco se volete potete aggiungere anche della maniglia. Quindi versate il gelato nelle coppette da gelato e decorate con quello che più preferite. Io ho aggiunto della granella di pistacchio. Il nostro gelato similgelato alla fragola e yogurt greco è pronto. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima. Ciao! Poi non dite che non pubblico ricette light. Eccola qui più light di così c'è solo l'acqua. Ciao!